Non è mai troppo digital, una trasmissione di Telefriuli per il Comune di Udine, riguardanti i cambiamenti epocali che il mondo sta vivendo riguardo la diffusione delle nuove tecnologie, dell'informazione e della comunicazione. Certamente l'apprendimento dura tutta la vita, si impara continuamente cose nuove, ma in particolare crediamo sia necessario che la scuola e gli ambienti di apprendimento e di formazione facciano dei ragionamenti molto importanti e molto fondati riguardo la necessità e la praticabilità delle nuove tecnologie in classe. I dispositivi digitali sono diffusissimi, i ragazzini e i giovani allievi li hanno con sé in quanto telefonini, in quanto tablet, in quanto connessi a casa tramite il computer. Semplicemente quelli in particolare nati dopo il 1990, i cosiddetti nativi digitali, sono nati dentro le tecnologie, dentro i linguaggi della loro fruizione, del loro utilizzo. Per loro cliccare su una tastiera a touch di un telefono moderno, oppure navigare a cercare informazioni, musica o video o quello che riguarda loro, è in loro naturale, connaturato, quasi come forse impugnare la forchetta. Questo non significa però che siano per così dire smanettoni, cioè tecnologicamente pronti ad affrontare qualunque peripezia informatica. Appunto, sono nati dentro un linguaggio e hanno visto nella loro vita molte ore di schermi, schermi della televisore, certamente, ma anche gli schermi dei cellulari, gli schermi del computer con cui navigare in internet. I pc in classe non sono una novità, sono stati introdotti come tecnologia, fino dagli anni 70, dagli anni 80, anche se riguardavano il fatto di utilizzarli come strumenti di produzione, quindi linguaggi di programmazione, non tanto la fruizione del web che era ancora al di là da nascere. In realtà la scuola ha sempre avuto come corretto atteggiamento pedagogico quella di provare a portare in classe tecnologie, che si tratti della tipografia, della stampa o della radio, della televisione o del cinema e cercare di fare di questi contenuti, di questi documenti, degli ausili alla didattica, dei supporti alla didattica per migliorare auspicabilmente l'efficacia dell'apprendimento presso gli alunni. Il computer cambia un po' le cose, abbiamo visto come il computer in sé assomma tutti gli strumenti, può essere radio, serve per scrivere testo, per fare del video e per pubblicarlo direttamente. Il computer è l'interfaccia, la porta verso un ambiente, uno strumento che porta in un ambiente che è quello di digitale online della rete internet. A scuola abbiamo gli ebook, i testi scolastici diventeranno in formato elettronico dal prossimo anno scolastico, ci saranno diffusi quindi gli ebook reader, ovvero dei dispositivi per la lettura dell'ebook che si caratterizza per la carta elettronica, gradevolmente bianca con l'inchiostro gradevolmente nero, i tablet che sono diffusi e sempre di più stanno prendendo piede anche dentro gli ambienti scolastici. Gli alimenti scolastici sono connessi tramite wifi per permettere a tutti di poter collegarsi alla rete internet, ma soprattutto quello che forse è l'esempio di un'aula scolastica, cioè la lavagna, anche essa ha subito delle migliorie e dei cambiamenti tecnologici nel corso degli ultimissimi anni. Oggi la lavagna è una LIM, cioè una lavagna interattiva multimediale. A parlare di questo vorrei chiamare Anna Giglioli dell'Enaip che ci racconta le novità riguardo questi strumenti. Un saluto a tutti, molto brevemente, la lavagna interattiva multimediale non è altro che uno strumento, come vedete avanzato, connesso a un proiettore, a un computer e permette di trasformare la classe in una modalità sempre più interattiva. Questo significa che l'interazione non è soltanto legato alla tecnologia, perché la LIM permette di introdurre nella classe tutte le risorse che tradizionalmente stanno fuori dall'aula e quindi tutto il mondo del web, tutte le risorse del web 2.0, di cui si è parlato durante questi incontri, ma fa ancora di più, permette di mettere in relazione e in interazione la classe, lo studente, gli studenti tra di loro, con l'insegnante e gli studenti all'interno della classe. Diventa quindi la LIM un vero e proprio nuovo ambiente di apprendimento interattivo in cui si costruiscono assieme, si co-costruiscono e si condividono conoscenze. La lavagna quindi come luogo di apprendimento, non solo come strumento, è un luogo sociale, possibile progettare nuova didattica in classe, avendo a supporto una tecnologia innovativa, capace di connettersi, capace di essere utilizzata come uno normale schermo, ma anche di aggregare intorno a sé gli alunni per sviluppare modi nuovi di fare scuola pubblicando. Con tutte queste tecnologie ovviamente la scuola sempre di più abita il territorio, è sempre più aperta, sempre più finestre con cui guardare fuori e da fuori possiamo guardare dentro la scuola. La scuola ha un sito web, in quanto pubblica amministrazione deve essere confezionata in un certo modo, deve garantire comunicazione con i genitori, con la cittadinanza, deve presentare degli spazi interattivi, può avere un blog oppure uno spazio di news perché è la voce un po' della scuola rispetto al territorio e alle sue pratiche interne. E quindi la scuola finalmente riesce a configurarsi come un attore sociale a tutti gli effetti, non più un po' separato dalla normale società, da quello che accade quotidianamente, ma un luogo dove semplicemente, banalmente, dentro la scuola troviamo gli stessi strumenti che circondano la vita degli adolescenti o dei ragazzi, ovvero telefonini, tablet, le lavagne, i videogiochi, i film, i blog, la rete, Facebook. Questa è una grande scommessa ovviamente per la scuola, per il cambiamento, però sappiamo che la scuola ha proprio questo dalla sua parte, cioè la necessità di ragionare sul futuro, sul futuro dei ragazzi, delle nuove generazioni e quindi non può non essere pronta a vivere il cambiamento e a saperlo adottare all'interno dei propri ragionamenti di tipo pedagogico o didattico. Progettare didattica utilizzando strumenti che si connettono con la rete internet, quindi con il mondo, significa forse promuovere sul territorio, presso ogni singola scuola, delle palestre di cittadinanza digitale, luoghi dove mentre faccio qualcos'altro imparo a essere un cittadino in rete, consapevole della privacy, della mia identità, del rispetto, di tutto quanto quello che può accadere online rispetto al mio quotidiano semplice, vivere e partecipare come cittadino alle discussioni, alle conversazioni che trovo online.